Erano felici, erano contenti. Come tutti gli sposi, anzi un po' di più, perché quello celebrato in Duomo a Napoli, più che un matrimonio, era il sogno di un'intera vita. Loredana e Ferdinando sono la prova che il vero amore può superare gli ostacoli ed andare oltre ogni diversità. Insieme con coraggio hanno deciso di prendersi cura l'uno dell'altro, superando qualsiasi disabilità, dicendosi il fatidico sì davanti a Dio. I due si sono conosciuti quasi trent'anni fa nella comunità di Sant'Egidio. Dopo anni di amicizia, grazie all'aiuto dei volontari, Ferdinando ha trovato il coraggio di chiedere la mano della sua amata Loredana. Un amore che ha saputo crescere ed andare oltre i pregiudizi, oltre le difficoltà e le chiusure, fino al giorno delle nozze celebrate dal cardinale Crescenzio Sepe nella Basilica di Santa Restituta. Gli invitati hanno visto negli occhi di Ferdinando l'amore vero, in una scintilla abballenata nei suoi occhi all'ingresso della sposa, vestita di bianco. Ho pensato solo che l'amavo, ha sussurrato. Negli occhi di lei invece hanno visto la gioia, quella pura, la felicità di aver finalmente coronato un sogno. Facciamo una bella famiglia, aiutiamo tutti e due. Io me la sento, io volevo bene, anche via e male.